E' un giorno atteso da 14 anni questo, l'inaugurazione e la dedicazione della Chiesa della Madonna di Fatima, che il Vescovo ha eretto a Santuario. Una Chiesa che ha diversi privilegi, diverse grazie. La prima è quella di ospitare al suo interno l'immagine mariana di Nostra Signora di Fatima proveniente direttamente dal Santuario di Fatima. La seconda è che questa immagine è stata benedetta e incoronata dal Papa. E la terza è che questo luogo santo, questo luogo di preghiera, questa Chiesa è affiliata al Santuario di Fatima, alla Basilica Santuario di Fatima in Portogallo. Tutto questo rende la nostra comunità una terra bella, una terra che si stringe attorno a Maria, una terra che vuole continuare a camminare con la fede nella Chiesa. Per questo la comunità di Soveria è stata grande nel poter realizzare in pochissimi mesi e completare questo edificio sacro. Una memoria che resterà per sempre scolpita nella storia di questa Chiesa, grazie alla solidarietà e alla generosità di tutti i componenti di queste parrocchie di San Giovanni e di San Michele. Signore davvero ci ricompensi tutti e ci doni di camminare. Ora la Chiesa è finita, lavoriamo insieme per costruire la comunità. Grazie. Grazie.